Maria Joseca Liggiuri, coordinatrice regionale Azzurro Donna Forza Italia Calabria, responsabile Donne del Centro Sud e Isole di Forza Italia, in una nota scrive Con la presentazione delle liste elettorali, la campagna elettorale è entrata nel vivo, noto con enorme soddisfazione che sono molte le donne che partecipano nella competizione elettorale regionale e comunale. Un dato molto positivo che dimostra l'efficacia delle norme antidiscriminatorie negli statuti comunali e nello statuto regionale calabrese, perché per la prima volta in Calabria si vota con la doppia preferenza di genere, necessari se vogliamo che le donne partecipano in massa alla vita pubblica. È indispensabile un cambiamento nel fare politica e questo cambiamento lo possono portare solo le donne. Non siamo quote, come ci definisce una certa sinistra, siamo donne e basta. Le candidate sono certe che lavoreranno in profonda sintonia, convergendo su un obiettivo condiviso, più donne nelle istituzioni, perché le donne devono poter essere per poter fare. La presenza delle donne è un valore aggiunto all'interno degli organi di governo, grazie all'indiscussa attitudine femminile di rispondere a esigenze politiche con logiche pragmatiche. Un in bocca al lupo di vero cuore a tutte le donne che hanno deciso con la loro candidatura di contribuire al cambiamento della nostra cara amata Calabria, con Roberto Chiuto, futuro governatore, e delle città che andranno a rappresentare.